Allora, buonasera a tutti ragazzi, spero di trovarvi bene, benvenuti alla prima conferenza di Yes Italy. Inizierei presentandovi l'associazione Yes è un acronimo, sta per Young Leaders in Energy and Sustainability. Siamo un'associazione europea, contiamo più di 750 membri sparsi per 15 stati europei. Principalmente siamo studenti o giovani imprenditori legati dalla passione per l'energia. L'obiettivo dell'associazione è di formare i futuri leader energetici di domani attraverso incontri in presenza oppure online, come oggi. Questi possono essere webinar, workshop, conferenze, hackathon. Finalmente è nato anche il team italiano, la divisione italiana, per cui sono felice di presentarvela, saremo noi. Parto da Martina Tibaldi, country representative. Piacere a tutti. Ilaria Parello. Ciao. Silvia Laera. Ciao. E infine io, Pierluigi Tagliebue. Oggi ascolteremo la professoressa Gandiglio, docente al Politecnico di Torino del corso Energetiche e fonti rinnovabili e collaboratrice per il corso di Polygeneration and Advanced Energy Systems. La sua attività di ricerca si concentra sulle analisi energetiche e di impianti di produzione, e sulle analisi energetiche di sistema di impianti di produzione. All'interno di questo primo incontro tenteremo di capire quali nuove tecnologie potrebbero sostituire quali attuali per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione, quali sono i pro e i contro delle attuali fonti energetiche utilizzate in Europa, ma anche in Italia, e tenteremo di comprendere come cambia il mix energetico di ogni nazione in base alla geopolitica. Questo primo webinar rinaugura una serie di conferenze che abbiamo organizzato nel mese di maggio. Oggi il tema è tecnico, ma nelle prossime conferenze approfondiremo l'energia e la sostenibilità da un punto di vista economico e anche legislativo. Quindi se siete curiosi, volete saperne di più o contattarci, non esitate, vi lasciamo qui in slide, ma anche in chat, i canali social a cui contattarci. Quindi se vi siamo sembrati interessanti o volete saperne di più, mi raccomando, scriveteci tutto quello che volete, fateci domande. Prima di passare la parola alla prof, vorrei dirvi una cosa. YES è un'associazione no profit, per cui entrare a far parte di YES vuol dire costruirsi nuove opportunità, costruire nuovi contatti, uscire dalla propria zona di comfort. Soprattutto però vuol dire entrare in contatto con delle persone che come noi condividono la passione per l'energia e l'obiettivo di creare o di contribuire a creare un mondo, un futuro più sostenibile e più eco facendolo insieme. Per cui rinnovo ancora una volta l'invito a fare domande, quello che volete, a fine conferenza e di farle anche alla prof naturalmente. Anche in chat non c'è assolutamente problema. Lascio la parola alla propria indiglia allora. Grazie mille Pierluigi, grazie a tutti. Sono contenta che mi avete chiamato per questo primo evento dell'associazione YES che davvero apprezzo molto quello che fate e l'interesse che avete per le tecnologie e per l'energia, quindi è un piacere essere qua. Adesso a breve condividerò lo schermo. Nel farlo probabilmente spegnerò la webcam solo perché non vorrei che poi la connessione saltasse per troppe cose condivise. Come detto fate pure domande in chat mentre parlo e fra un'oretta ci sarà comunque un quarto d'ora di tempo per fare domande. Ok, allora condivido lo schermo. Ok, dovreste vedere la presentazione. Allora quello che cercherò di raccontarvi oggi è un po' appunto come si evolve lo scenario energetico mondiale con poi un focus sull'Italia e quali sono le tecnologie in gioco come status attuale e anche trend futuri verso la transizione energetica di cui sentiamo sempre parlare. Supponendo che il background, che non siete tutti studenti del poli diciamo quelli connessi, ho cercato di partire un po' dall'inizio con cose che se qualcuno ha già fatto il mio corso avrà già un po' sentito però cercando di utilizzare dei concetti semplici in modo che possano essere compresi da chiunque abbia anche background non per forza ingegneristici o energetici. Allora, chi sono io? Vi sto già detto quindi non perdo tanto tempo a parlare di me. Comunque lavoro al Politecnico da circa otto anni, ho fatto un dottorato in ingegneria energetica anche se sono laureata in meccanica e mi occupo di energie rinnovabili con focus sul mondo dell'idrogeno e dei biocombustibili come area di ricerca. Quello di cui appunto cercherò di parlarvi oggi è partire dall'oceano energetico mondiale includendo un po' i pilastri di quelli che i pilastri che costituiscono lo scenario di transizione, ovvero le fonti rinnovabili, l'idrogeno e la cattura della CO2. Poi un piccolo focus sull'Italia e alla fine appunto a che punto siamo con la transizione, cosa serve e cosa ci manca. Quindi partiamo diciamo con lo scenario energetico mondiale e quindi cercare di capire quanto consumiamo, di cosa e in che modo. Ho iniziato con questa traduzione in realtà del summary dell'Energy Technology Perspective che è uscita l'anno scorso da parte dell'International Energy Agency che è una delle autorità varie che si occupa dei centri di ricerca, che si occupa di fare questi studi sui trend energetici e in questo report che è anche molto interessante ve lo consiglio in realtà vengono diciamo descritti in modo abbastanza completo tutte le tecnologie, loro le chiamano le clean technologies, le tecnologie pulite che sono necessarie per la transizione energetica. La maggior parte di questo riguardano il settore energetico e ci sono tecnologie e le vedremo che sono diciamo in uno stadio di mercato elevato, quindi diciamo possiamo comprarle, pensiamo ai pannelli fotovoltaici e li abbiamo già installati in molte diciamo abitazioni in modo non più diciamo non più a livello di ricerca. Ci sono invece tecnologie che sono essenziali per la transizione ma sono ancora in fase di ricerca e sviluppo, come è tutto il mondo dell'idrogeno ma anche il mondo della cattura dello CO2, quindi però tutti sono essenziali, di tutti abbiamo bisogno in realtà. e c'erano queste due frasi che ho riportato in rosso perché secondo me davano un po' l'idea di davvero quanto sia enorme lo sforzo che dobbiamo tutti in realtà fare per arrivare ai famosi goal della conferenza di Parigi sulle riduzioni dell'incremento di temperatura rispetto all'era preindustriale. Si parla infatti che per arrivare a zero emissioni entro 2050 che è proprio l'obiettivo in linea con la conferenza di Parigi, la produzione dell'elettricità dovrebbe aumentare di due volte e mezzo rispetto ad oggi perché si va ovviamente verso una elettrificazione di tutto il sistema, poi lo vedremo. E questo richiede un tasso di crescita equivalente ad aggiungere all'interno settore energetico il consumo degli Stati Uniti ogni tre anni. Quindi questo ci dà un po' un'idea di quanta elettricità dovremmo produrre, ovviamente principalmente da fonti rinnovabili, i numeri sono davvero molto alti, poi li vedremo. E anche sull'idrogeno, per produrre l'idrogeno verde, quello che viene chiamato green hydrogen, ci servono sistemi che si chiamano elettrolizzatori che consumerebbero per produrre tutto l'idrogeno che in questi scenari di raggiungimento altri obiettivi richiesto, il doppio dell'elettricità che attualmente generano oggi, genera tutta la Cina oggi. Quindi di nuovo si parla proprio di una transizione davvero molto importante, attualmente lo vedremo non in linea con quello che stanno facendo le nazioni per adesso. Le parole chiave che in tantissimi report troviamo relative alla transizione energetica sono queste 6 principalmente, poi possono anche essere un po' accorpate. Il primo è l'utilizzo di fonti rinnovabili di tutti i tipi il più possibile, la seconda ovviamente aumentare l'efficienza della conversione energetica, elettrificazione ovviamente dei settori soprattutto negli usi finali, utilizzo dell'idrogeno e poi CCS e CCU stanno per carbon capture, cioè cattura della CO2 che può essere o con la S sequestrata o utilizzata. E poi in realtà questo 6 sarebbe carbon capture della CO2 con bioenergy, quindi utilizzo di bioenergie, biofuel. Quindi sempre cattura della CO2 ma anche ne accoppiata con tutto il mondo delle bioenergie, che poi rientra un po' nel tema delle rinnovabili, della cattura, quindi è un sottotema diciamo a questo punto 6. Quanto consumiamo adesso in tutto il mondo e come diciamo è composto questo mix mondiale in termini di energia primaria? Beh, vedete che in questo grafico vediamo rappresentati gli extra joule, quindi 10 alla 18 joule, comunità di misura energetica, fino al 2019. E vedete che ovviamente la produzione di energia primaria mondiale è dominata da fonti fossili, ovvero dal carbone, coal in grigio, dal gas naturale e dal petrolio, quindi nel rosso il gas naturale e in verde il petrolio. In generale la richiesta di consumo di energia privaria è sempre aumentato negli ultimi anni, in realtà vi farò vedere un trend è aumentato tantissimo negli ultimi 50 anni con il dopoguerra. C'è uno share di fonti rinnovabili presente perché oltre al nucleare in giallino vedete che abbiamo l'idroelettrico in azzurro e poi tutte le altre rinnovabili che sono questa fetta arancione che nel tempo va ad aumentare, però comunque costituisce ancora una quota molto piccola in termini di energia primaria mondiale. Come vi dicevo, questo è un trend dal 1994 al 2019. Se guardiamo lo stesso trend, con un'altra unità di misura, ma sempre come energia, sono terapattora anziché exajoule, però dal 1800 vedete che dal 1950 più o meno in poi la crescita di consumi di energia primaria è davvero aumentata tantissimo, per diversi motivi legati all'aumento del dopoguerra, alla ripresa, all'aumento dell'industria, anche all'industrializzazione di paesi, soprattutto in Asia, che sono cresciuti molto come richieste energetiche, però vedete che il trend è molto molto in salita. Ed è sempre, come vi dicevo, diciamo, dominato da carbone, petrolio e gas naturale. A seconda delle statistiche che utilizziamo, questa ve la dico come informazione, in realtà non trovate sempre dei numeri identici, anche se ci sono enti, spesso gli enti che andate a consultare sono tutti magari autorevoli, però spesso troviamo anche numeri leggermente diversi. Questo perché, a seconda della fonte, potrebbero essere o meno considerate alcuni tipi di energia. Per esempio, il grafico che abbiamo visto prima è un grafico della British Petroleum, questo è un grafico invece che viene, diciamo, utilizza due fonti e qua vengono incluse, vedete, le biomasse tradizionali, che non c'erano nel grafico prima. Le biomasse tradizionali sono, poi lo vedremo, è l'utilizzo di biomasse, in particolare legno, scarti vari, organici di vario tipo, però, diciamo, in uso domestico per cucinare, ed è l'utilizzo classico, per esempio, in paesi in via di sviluppo di legno, paio, altri sistemi per cucinare in casa. Quindi non è proprio una fonte di energia che ha un mercato che può essere commercializzata, però comunque è una quota totalmente non trascurabile ed è comunque ancora oggi ampiamente diffusa in molte zone del mondo. Se poi andiamo a vedere il consumo di energia primaria per regioni, quindi dal, diciamo, scenario mondiale, passiamo alle diverse aree del mondo, vedete che le quote fossili, che sono verde, rosso e grigio, comunque dominano, diciamo, la produzione di energia primaria in tutte le aree del mondo. Ci sono aree in cui la produzione è quasi al 100% fossile, come per esempio il Middle East, quindi l'est dell'Asia, e anche un po' la zona delle Cisse, sono l'ex urs, più o meno, più o meno, perché non ci sono tutti i propri paesi dell'ex urs, comunque sono Russia, ehm, Azerbaijan, Uzbekistan e anche alcuni altri paesi che formano questa, ehm, common point of independent states, anche loro hanno un'importante quota di, di fonti fossili. L'Europa, insieme in realtà al sud del Centro America, è tra le regioni che un po' di più è investito sulle rinnovabili e anche sul nucleare. Questo perché, lo vedremo poi in realtà alla fine siamo anche quelli che hanno meno fonti fossili in casa e quindi, eh, abbiamo sempre, diciamo, spinto di più verso le fonti rinnovabili, infatti siamo riusciti ad avere un, una maggiore quota nel mix energetico. Eh, questa immagine in realtà ve l'ho messa solamente come informazione. Spesso quando guardiamo le statistiche ci vengono presentate delle, degli, degli share, delle distribuzioni di utilizzo di, di fonti fossili rinnovabili, di fonti energetiche che spesso sono per tutta l'energia, quelle, quindi primary energy, total energy e quindi includono sia la produzione di elettricità ma anche la produzione di combustibili per il trasporto e il riscaldamento e l'acqua calda. Quindi queste statistiche spesso hanno, diciamo, contributi diversi rispetto a quelle che ci rappresentano solo la produzione elettrica. Per esempio, eh, se noi guardiamo solo la produzione elettrica a livello mondiale, dominata dall'usolo del carbone e c'è un discreto share di rinnovabili qua a destra. Se guardiamo la produzione energetica totale, includendo anche i trasporti e il calore, vedete che la diffusione è diversa, aumenta la quota relativa al petrolio, però diminuisce invece quella legata alle rinnovabili. Quindi state attenti quando anche è importante, quando andiamo a cercare dati e informarci, ne troviamo davvero tantissimi, capire a cosa si riferiscono. Andando avanti, un'altra informazione che è interessante per capire come è composto il mix energetico e quali sono i fattori che lo influenzano è il consumo pro capite. Noi viviamo in un mondo ovviamente con un consumo pro capite molto differente, a seconda del paese in cui andiamo a considerare. Il paese che ha un consumo pro capite altissimo da tantissimi anni, in leggera discesa, ma comunque molto più alto di tutto il resto del mondo, sono gli Stati Uniti, il Canada, il Nord America, che si vede sia in questo grafico, sia anche nella mappa, seguito da, diciamo, gli altri paesi sono tutti un po' più vicini come consumi perché abbiamo di nuovo la regione della Russia, il Medio Oriente e l'Europa, che sono comunque molto vicini. Il Medio Oriente ha avuto uno sviluppo molto importante negli ultimi decenni e quindi ha avuto una crescita importante del consumo pro capite. A seguire abbiamo il Sud e Centro America e l'Africa, che invece hanno consumi molto bassi. Si vede anche nella mappa, sono i paesi più, diciamo, anche meno industrializzati e con un minore tenore di qualità della vita e infatti hanno dei livelli di utilizzo di energia per persona che è davvero molto basso. E questo fa sì che poi anche questo influenza, ovviamente, poi i consumi finali per regione. E l'ultima cosa, questo invece è un commento più generale, ricordiamoci sempre che comunque noi parliamo di consumi in aumento sempre da anni, dappertutto, ma abbiamo comunque un 13% del mondo che non ha accesso all'elettricità e comunque, come abbiamo visto prima, dei consumi pro capite che tendono allo zero. Quindi comunque, quando parliamo di fonti energetiche, di consumi medi mondiali, stiamo sempre molto lontani da una fascia di popolazione che è principalmente legata all'Africa Centro e Sud. Come copriamo quindi questi consumi? Abbiamo visto con una buona quota di fonti fossili, ma anche con delle fonti rinnovabili, che adesso andremo a vedere un po' una per una. I combustibili fossili sono forse un po' più noti, nel senso che sono i soliti, appunto, carbone, petrolio e gas naturale in forma solida liquida e gassosa, mentre è interessante andare a vedere cosa succede nel mondo dei rinnovabili in termini di capacità installate, di tecnologie disponibili. Prima di passare a questo argomento, in realtà, volevo solamente fare un piccolo, diciamo, un po' di teoria sul tipo di risorse. Noi abbiamo quindi due tipi di fonti, le fonti rinnovabili, che quindi si rigenerano continuamente e non generano alcuna emissione di CO2, sono neutrali, e poi abbiamo tutto il mondo delle fonti fossili, che invece sono fonti stoccate nelle aree storie, nel passato del nostro pianeta, e che però sono anche esauribili. Quindi ne abbiamo una certa quantità disponibile. Ultima informazione, quando guardiamo i grafici, lo vedremo anche poi più avanti, ricordiamoci sempre, quando noi parliamo di una fonte energetica, che sia essa il sole, o il vento, o anche il petrolio, la disponibilità di una fonte energetica non corrisponde mai a quanto ne possiamo utilizzare, perché la conversione dell'energia è sempre una perdita. Questo è importante da tenere conto. Ci sono anche certe fonti rinnovabili che hanno efficienze, diciamo, ancora un po' limitate, quindi nonostante siano ampiamente disponibili, riusciamo alla fine a produrre relativamente poca energia utile. Quindi questa, ricordarci comunque, avere un'energia disponibile, una risorsa non vuol dire avere subito l'energia a disposizione, è importante. Ci andiamo a guardare di nuovo, questo qui è il TPS, il Total Primary Energy Supply, quindi l'energia primaria fornita. Questo numero, come abbiamo visto prima, è aumentato mediamente nel mondo ed è aumentato anche il consumo pro capito, in realtà negli ultimi anni. È aumentato, come vi dicevo, se noi guardiamo gli ultimi vent'anni, sono aumentati in modo importante i consumi asiatici, in realtà principalmente spinti da Cina e India, che hanno avuto un incremento di richieste di energia molto alto. L'Africa ha avuto un incremento di energia, in realtà anche essa, ma comunque basso rispetto agli altri paesi, comunque continua ad avere un consumo molto importante. i Stati Uniti si sono mantenuti stabili, ma ad un livello di richiesta energetica molto alto. L'unico paese che è riuscito a ridurre un pochino, quasi nulla, però un po' ha ridotto la sua domanda energetica, è l'Europa. Come vi dicevo, ha investito molto comunque in efficientamento energetico e fonti rinnovabili, quindi si vede questo investimento negli anni si denota anche da questi indicatori globali. Passando quindi ad analizzare un po', una per una, le principali fonti rinnovabili, in realtà diciamo quelle che sono più vicine a livello commerciale, poi ci sono molte altre fonti rinnovabili minori. Ovviamente le fonti rinnovabili sono un elemento chiave per decarbonizzare il sistema energetico. Se noi vogliamo diminuire la nostra dipendenza tra combustibili fossili, dobbiamo investire il più possibile in fonti energetiche rinnovabili, cercando di massimizzarne l'utilizzo e il mix. Come vi dicevo, non c'è una fonte che è la soluzione, diciamo, per tutto. Dobbiamo cercare di utilizzarle tutte, ove possibile, nel miglior modo possibile. Come è costituito, diciamo, attualmente la produzione elettrica rinnovabile, è composta principalmente dall'idroelettrico, l'idroelettrico è quella che viene chiamata anche la fonte rinnovabile più antica, perché in realtà è in uso da tantissimi anni ed è, diciamo, ormai quasi satura in Europa, mentre ancora in fase di sviluppo in altre parti del mondo, ma copre una buona parte della produzione elettrica mondiale. A seguire abbiamo poi l'eolico, il fotovoltaico, le bioenergie e poi tutte le altre fonti che includono l'energia geotermica, CSP e il solare a concentrazione, l'ocean power che include al suo interno sia la wave energy, quella legata alle onde, che la tidal energy, che è legata alle maree, quindi ci sono tantissimi altri poi modi di sfruttare energie, potenzialmente molto interessanti, l'energia dagli oceani lo è, perché ha una densità energetica, una potenzialità di produzione per chilometro quadrato molto alta, quindi è molto interessante, non si è ancora arrivati però a sistemi tecnologici davvero in grado di sfruttarla pieno, diciamo, quindi questo è il motivo per cui ad oggi sono ancora un po' in fase di crescita, ma ancora poco importanti come numero di impianti e produzione energetica globale. Cosa ne facciamo delle fonti rinnovabili? Nel senso, non sempre produciamo elettricità, o meglio non solo. Una parte viene utilizzata per fare l'elettricità, il 26% dell'elettricità prodotta è rinnovabile su scala mondiale, una piccola piccola parte viene utilizzata per i trasporti, solo il 3.3% dei trasporti è rinnovabile, vedremo il settore dei trasporti che è uno dei più difficili a decarbonizzare, anche in Italia ci sono delle politiche attualmente in atto per cercare di decarbonizzare il settore dei trasporti, ma non è facile, c'è tutta la campagna ovviamente di veicoli elettrici, ibridi, ma è un settore difficile da decarbonizzare soprattutto sui mezzi pesanti, quindi tutto il mondo dei camion, navi, treni, anche autobus in realtà. E una parte di fonti rinnovabili in realtà viene anche utilizzata per produrre direttamente energia termica, quindi principalmente diciamo calore sotto forma di o acqua calda per riscaldamento o acqua calda sanitaria oppure anche calore per usi industriali, quindi può essere anche vapore oltre all'acqua calda o diciamo fonti di calore diverse dall'acqua. La produzione da fonti rinnovabili è cresciuta negli ultimi anni, come vi dicevo l'idroelettrico è quello che è più storico, vedete che è sempre stato presente già negli anni 60 vi era una produzione elettrica, era l'unica fonte rinnovabile presente in realtà all'inizio degli anni 70 continua a crescere però negli ultimi diciamo vent'anni sono aumentate anche le produzioni legate all'energia eolica al vento legate al al sole quindi energia solare che può essere appunto fotovoltaica se produciamo elettricità o solare termico se produciamo calore e poi le altre rinnovabili principalmente la geotermia il solare a concentrazione tutte le altre forme di energia minore quindi come l'energia dagli oceani. come utilizzo i rinnovabili vi dicevo l'Europa ha investito molto e questo verdino che sto indicando quindi c'è un importante contributo dell'Europa rispetto alle fonti rinnovabili seguita comunque dal Nord America e dall'Asia. Adesso potremmo andare cioè quello che andremo a fare e inizieremo a vedere un po' di più nel dettaglio le varie fonti rinnovabili per cercare di capire un po' di più su ognuna di esse. la prima informazione sulla fonte solare e come distribuita ovviamente le fonti rinnovabili sono sono mediamente eque perché in realtà vedremo che ci sono zone che hanno forte vento e poco sole e zone che hanno tanto sole e poco vento quindi in realtà non c'è non c'è tanta geopolitica nelle risorse rinnovabili in sé sono abbastanza distribuite equamente per quanto riguarda questa qui l'irradianza orizzontale globale invata al metro quadro che arriva in diverse zone della Terra come già immaginate ci sono zone più che hanno un'irradianza globale più elevata come tutta appunto il continente africano una parte dell'Asia e poi alcune zone dell'America diciamo le coste ovest delle Americhe in Europa c'è una zona diciamo sud dell'Europa dove ci troviamo anche noi in cui la radiazione è più importante e poi ovviamente più andiamo verso nord e più la radiazione va a diminuire anche l'Australia ha una buona irradianza solare comunque e cosa possiamo farne di questa fonte solare il primo utilizzo che tutti ovviamente conosciamo è fare energia elettrica quindi utilizzare fare pannelli fotovoltaici e quindi produrre energia elettrica questo è stato diciamo l'installazione di pannelli fotovoltaici ha avuto una forte crescita in Europa ma in realtà in tutto il mondo negli ultimi anni si vede anche in questo grafico abbiamo attualmente al 2019 circa 627 gigawatt installati di produzione fotovoltaica questa è la taglia diciamo installata totale nel mondo sono sistemi che possono essere negli anni li abbiamo visti anche qua in Italia installati anche a terra ultimamente si è molto spinto per l'utilizzo di tetti fotovoltaici come quello che vedete in figura il vantaggio di andare a installare sistemi fotovoltaici su edifici come adesso è anche obbligatorio sulle nuove costruzioni in Italia è legato al fatto che andiamo a produrre energia elettrica vicino a dove ci serve e poi senza andare a occupare suolo perché ovviamente il tetto è una zona dell'edificio che non utilizzeremo in altri menti e quindi è un utilizzo molto interessante dei pannelli fotovoltaici che un pochino hanno abbandonato invece l'installazione su terra rimangono su terra per diciamo come centrali diciamo di produzione elettrica ma per utilizzi diciamo più distribuita come quella che viene chiamata produzione distribuita dell'energia quindi produrre vicino a dove serve l'elettricità è molto interessante l'utilizzo come sui tetti i pannelli fotovoltaici come efficienze questa immagine sta anche diciamo proposta durante i giorni precedenti dai ragazzi di Yes ci sono diversi tipi di pannelli fotovoltaici quelli che vengono attualmente principalmente installati sono di tipo a silicio monocristallino o policristallino quindi questi punti blu questo grafico ci rappresenta l'efficienza delle celle quindi non del modulo ma delle celle della singola del pezzettino fotovoltaico che cattura l'energia solare il fotone e produce corrente elettrica nel tempo e vedete che ad oggi questi sistemi blu che vi dicevo sono quelli commerciali disponibili in commercio hanno un'efficienza del 26-27% questa vi dicevo l'efficienza della cella del sistema puro di silicio se poi passiamo invece all'efficienza del modulo del pannello che andiamo a metterci sul tetto quindi finito con il suo case il suo sistema di collettori per l'elettricità tutta la parte elettrica in realtà l'efficienza è intorno al 19-20% del modulo completo quindi un po' più bassa si perde abbastanza nel passare da singole celle a modulo completo per rete di tipo principalmente elettrico esistono però e sono in fase di studio anche altri sistemi di celle fotovoltaiche le più interessanti a livello di efficienza sono questo gruppo che hanno efficienza in viola in fucsia che hanno efficienze molto alte addirittura vicine al 50% quindi più del doppio comunque quasi il doppio di quelle monocristalline sono celle che si chiamano multigiunzione permettono di catturare un maggiore spettro di radiazione solare quindi le celle monocristalline catturano radiazione in un certo range di lunghezza d'onda quindi non sfruttano tutta la radiazione solare che arriva sulla Terra ma solo un certo range di lunghezza d'onda le multijunction utilizzano più giunzioni quindi in realtà sono ingegneristicamente più complesse perché non sono un singolo blocchetto di cella ma sono più celle messe a cascata ma riescono a catturare un maggiore spettro di radiazione solare incidenti di lunghezza d'onda e quindi per questo motivo catturando più radiazione solare in ingresso riescono ad essere più efficienti il problema e questo è un problema che vedremo e vediamo spesso nelle nuove tecnologie è il costo quando una tecnologia è nuova ed è ingegneristicamente più complessa ha dei costi che a meno di incentivi dedicati non la rendono commerciale e quindi queste celle sono prodotte esistono però sono sviluppate principalmente da istituti di ricerca nel National Renewal Energy Lab degli Stati Uniti raggiungono efficienze record ma non sono in commercio ci sono poi anche delle celle emergenti che hanno efficienze un po' basse vedete queste qua in rosso tra il 12 e il 17% che però sono spesso fatte con materiali organici o con materiali meno impattanti rispetto alle celle di silicio quindi in realtà sono celle che sembrano meno interessanti a livello energetico ma come impatto a livello di materiali produzione ciclo di vita sono comunque interessanti quindi sono in fase di studio uno dei problemi ve lo propongo sul fotovoltaico perché è più facile ma in realtà è comune purtroppo a molte delle fonti rinnovabili e la questione della diciamo mismatch del non allineamento tra domanda e produzione questa è una classica curva di produzione di un pannello fotovoltaico con il picco diciamo intorno a mezzogiorno se lo mettiamo in Italia qua nella nostra latitudine e invece quella in blu la richiesta di energia da parte dell'utenza e quindi consumo al mattino questo utente ha anche un consumo a pranzo quindi probabilmente c'è un ritorno a casa nell'ora di pranzo e poi un picco di consumi la sera quando le persone sono tutte a casa ovviamente questo genera la necessità di avere sistemi di stoccaggio quindi noi possiamo e potremo e faremo il possibile per incrementare il più possibile l'utilizzo di fonti rinnovabili però se vorremmo utilizzare al meglio diciamo l'energia rinnovabile per gli usi finali è sempre necessario comunque uno stoccaggio e così per il solare e così per l'eolico che invece ha dei picchi un po' più diciamo randomici all'interno della giornata e quindi diciamo questo per quanto riguarda le fonti solare e eolico che sono quelle più diffuse e quelle su cui si sta investendo di più perché sono diciamo abbastanza uniformemente diffuse nel mondo e quindi è quello il motivo per cui si investe molto però sono anche quelle più incontrollabili e infatti si parla anche molto di importanza del sistema elettrico nella transizione energetica ci sono stati in Germania negli scorsi anni dei momenti in cui si è fatto quello che viene chiamato curtailment cioè si è tagliata l'energia perché era estate tutti i pannelli andavano non c'era domanda e quindi diciamo ci sono momenti in cui si è buttata via l'energia prodotta questo succede diciamo sono i primi momenti in cui succede nei paesi negli ultimi anni è successo a poche volte se andremo a incrementare sempre sempre di più la quota di rinnovabili dobbiamo prepararci a un sistema elettrico che sia in grado di stoccare questi eccessi con batteria o con idrogeno a seconda poi delle scelte tecnologiche probabilmente serviranno entrambi e poi la riutilizzi quando necessario quindi diciamo questa è una questione da tenere sempre in conto quando andiamo a pensare ad un aumento importante di fonti energetiche vi dicevo tra le tecnologie fotovoltaiche quelle più diffuse sono quelle a base in silicio mono multicristallino sono circa il 90% della produzione annuale di celle fotovoltaiche a livello di mercato il mercato è dominato dal Cine e Stati Uniti praticamente se volete comprare un pannello fotovoltaico quasi tutti 9 su 10 sono prodotti in Cina l'industria cinese per i pannelli fotovoltaici è molto importante noi abbiamo per esempio un produttore in Italia però appunto uno solo quindi è un po' è dominato dall'Asia e dagli Stati Uniti come produzione e qua vedete l'andamento dell'installazione in Europa di sistemi fotovoltaici negli ultimi 20 anni l'Italia è in rosa come vedete l'Europa ha avuto dei picchi intorno al 2011 e 2012 legati a sistemi incentivanti vedete che l'Italia nel 2011 ha avuto nel 2012 è una quota davvero importante in Europa diciamo quasi metà delle installazioni totali queste qui sono nuove installazioni ogni anno sono quindi l'andamento è sempre in crescita perché questo numero è sempre maggiore di zero quindi ogni anno si installa un po' di più però in questi anni è cresciuto tantissimo legato a sistemi incentivanti c'erano incentivi per il fotovoltaico che erano incentivi per la produzione da fotovoltaico e non per l'autoconsumo quindi si tendeva anche un po' a sovradimensionare l'impianto anche se a me servivano 3-4 kilowatt ne installo 10 tanto poi mi incentivavano mi pagavano tutti i kilowattora prodotti indipendentemente che venissero autoconsumati e messi in rete adesso c'è ancora un incremento annuo esiste ancora ma è un po' più ridotto e stanno crescendo paesi come la Spagna e anche l'Olanda in particolare oltre alla fonte oltre alla produzione elettrica da fotovoltaico dal solare possiamo produrre anche energia termica quindi ci sono i famosi collettori solari che producono acqua calda principalmente oppure i solari a concentrazione che invece producono di solito vapore quindi concentrano le reazioni in un punto solo raggiungono temperature molto molto elevate e quindi riescono a produrre di solito vapore che poi viene emanato in turbina quindi questi sistemi producono energia elettrica mentre i collettori solari producono energia termica i collettori solari sono una tecnologia ampiamente diffusa abbiamo 479 gigawatt termici installati quindi paragonabili all'installazione di fotovoltaico nel mondo in crescita continua negli ultimi dieci anni e i solari a concentrazione invece è una tecnologia che sta crescendo però vi ricordate che nei grafici prima era tra le altre fonti quindi in realtà è molto bassa ci sono 6 gigawatt installati nel mondo quindi siamo due ordini di grandezza rispetto alle installazioni di fotovoltaico e solare termico però comunque sono impianti in crescita non si possono fare dappertutto perché serve una irradianza superiore a un certo valore quindi in questo grafico per esempio le aree gialle sono quelle ottimali per installare solare a concentrazione nelle altre non c'è sufficiente si può installare ma diciamo quelle performance non sono ottimali e qua c'è qualche esempio di isolare a concentrazione in Israele in Spagna in Marocco che erano proprio le zone diciamo più interessanti viste nella cartina prima è comunque un settore in crescita economicamente conveniente solo se fatto su scala di centinaia di megawatt quindi impianti molto grossi la fonte solare si può anche poi utilizzare per fare teleriscaldamento su base solare ci sono qualche esperimento nel mondo ma anche raffrescamento solare quindi io produco calore che poi però invio in un ciclo di assorbimento che è un ciclo termodinamico particolare che utilizza il calore per raffrescare un ambiente quindi in zone molto calde del mondo dove la richiesta termica è limitata si può utilizzare la fonte solare per fare raffrescamento che è in zone con temperature molto elevate questo qua per esempio un esempio di Ikea che ha installato a Singapore un sistema di solar cooling e questo qua è un riassunto di quanti diciamo gigawatt solari sono installati nel mondo passiamo poi alle biomasse cerco di andare un po' più veloce altrimenti non riesco a dirvi tutto quello che vorrei le biomasse in realtà costituiscono negli usi finali una quota non bassissima però vi dicevo una parte sono le biomasse tradizionali quindi l'utilizzo domestico principalmente in Africa e in Asia di biomasse per cucinare principalmente per cucinare invece poi ci sono tutte le biomasse moderne le biomasse moderne che vengono utilizzate per fare elettricità calore oppure nei trasporti per biomasse moderne cosa intendiamo? beh vi dicevo questo qua in queste prime immagini vediamo proprio quello che intendevo prima per biomasse tradizionali le biomasse moderne invece sono tutto il mondo dei biocombustibili quindi il biodiesel l'etanolo il biometano quindi combustibili di origine che più vengono la biomassa e che pian piano diciamo stanno comunque entrando nell'uso comune soprattutto il biodiesel anche se come vi dicevo il settore dei trasporti è quello che ancora oggi è più difficile decarbonizzare quindi stanno prendendo piede ma sono ancora diciamo ridotte come totale di come share nel totale dell'energia consumata per i trasporti oppure le biomasse le possiamo utilizzare anche per produrre elettricità per esempio se facciamo biogas dalla digestione aerobica di rifiuti di scarti agricoli alimentari la raccolta dell'organico alla depurazione delle acque si produce un biogas che spesso è utilizzato in dei motori a combustione interna per produrre elettricità quindi si fa cogenerazione oppure si possiamo avere centrale biomassa gasificatore biomassa che producono poi sempre elettricità a partire dalle biomasse i principali diciamo utilizzi e nel mondo diciamo che le biomasse la produzione principale di come si parla guardiamo i biocarburanti è dominata dall'America Nord Centro-Sud America come biocarburanti e un pochino anche in Europa e in Cina guardando invece l'energia geotermica allora l'energia geotermica è un'energia che deriva quindi dal calore presente all'interno della terra può essere utilizzata in due modi o per produrre elettricità in grosse centrali geotermiche come quella che era rappresentata in questa figura oppure e questo qua si può fare solo in alcune zone del mondo perché servono zone con un elevato potenziale geotermico che è legato ad anomalie nel sottosuolo che sono presenti solo in alcune zone del mondo queste anomalie fanno sì che nel sottosuolo in quelle zone si abbiano elevatissime temperature e quindi si possono costruire queste centrali in tutto il resto del mondo possiamo comunque utilizzare l'energia geotermica ovunque vogliamo come grazie a sistemi con pompe di calore quindi sistemi diciamo domestici con pompe di calore l'Italia è famosa per l'energia geotermica perché abbiamo il primo abbiamo costruito il primo impianto al mondo che sfruttava l'energia geotermica all'arderello in Toscana che è ancora oggi funzionante e quindi abbiamo una tradizione geotermica in Toscana perché diciamo che è il paese in cui si sono presenti quelle anomalie che fanno sì che il terreno sia particolarmente caldo che non è possibile in altre zone d'Italia e questa è la centrale come risulta oggi ancora ad oggi funzionante ci sono in realtà più di una centrale tutte però in quella zona della Toscana e questo per quanto riguarda la produzione elettrica quindi in realtà si estrae il vapore del sottosuolo e si utilizza per produrre elettricità di solito in un turbogas quindi in una turbina si produce elettricità l'alternativa invece è fare impianti geotermici a bassa temperatura quindi non facciamo la centrale siamo in un qualsiasi punto del mondo utilizziamo il terreno che è un pozzo a temperatura fissa tutto l'anno per fare riscaldamento d'inverno perché fuori abbiamo meno 5 gradi e il terreno è sempre a 12 gradi quindi possiamo diciamo portare il calore dal terreno verso la nostra abitazione perché è più caldo della temperatura esterna si fa attraverso una pompa di calore adesso non enterei nell'ingegneria della pompa di calore però c'è questo sistema che ci permette di trasferire il calore dal terreno alla nostra abitazione d'estate è il contrario la pompa di calore è un sistema reversibile il terreno è sempre a 12 gradi tutto l'anno fuori fa molto caldo abbiamo 35 gradi possiamo portare via il calore dalla casa che è calda e rigettarlo nel terreno questo è una cosa che è a livello domestico quindi diciamo che deve diffondersi molto per avere impatti importanti a livello globale ed è per questo che non lo vediamo spesso nelle statistiche mondiali però è un sistema che è potenzialmente installabile in tutto il mondo con i limiti del dover andare a scavare dei pozzi quindi con i limiti più geologici ed economici della tecnologia qua ho messo qualche diciamo informazione sull'Islanda perché è il paese al mondo dove l'energia geotermica viene maggiormente sfruttata i miei studenti l'hanno visto è la scorsa lezione quindi lo saprò in memoria però in Islanda l'energia geotermica viene utilizzata per produrre elettricità ma anche per produrre calore un paese molto freddo quindi è diciamo anche molto interessante produrre calore ma anche per tantissimi altri usi per esempio per scaldare le piscine per allevamenti ittici quindi di pesci per le serre ovviamente coltivare in un paese così freddo vuol dire avere delle serre riscaldate che possono essere riscaldate o elettricamente dal sistema di illuminazione ma anche dal calore proveniente dal sottosuolo dall'energia geotermica ci sono poi tantissimi usi industriali e anche interessante l'utilizzo per sciogliere la neve nei parcheggi perché ovviamente c'è molta neve nei parcheggini dovuta alla stagione invernale molto importante e quindi c'è una serpentina di acqua calda diciamo che fa sciogliere la neve permette di poterle utilizzare soprattutto nelle zone di Reykjavik centrali ma l'utilizzo maggiore quasi metà dell'energia geotermica disponibile diciamo attualmente prelevata in Islanda viene utilizzata per il riscaldamento che è per il 90% subata geotermica in Islanda quindi diciamo che hanno quasi completamente decarbonizzato il settore del riscaldamento e poi come altro utilizzo producono anche energia elettrica quindi hanno anche delle grosse centrali come questa in figura questa è la più grossa del paese sono 300 megawatt che invece producono elettricità a partire da fonte geotermica hanno non tantissime centrali appunto 7-8 perché comunque anche la richiesta energetica è bassa perché il paese non è un paese ad altissima densità abitativa e i principali produttori di energia geotermica nel mondo chi sono? Sono gli Stati Uniti poi abbiamo Indonesia Filippina e Turchia ci siamo anche noi c'è anche l'Italia entro i primi 10 perché come vi dicevo non tutto il mondo può fare geotermia possono farlo i paesi in cui ci sono queste anomalie quindi anche noi ci siamo perché abbiamo questa possibilità e l'abbiamo diciamo sfruttata e qua c'è un po' riassunto poi l'altra fonte che vi dicevo storicamente è stata davvero tantissimo utilizzata tantissimo sfruttata è l'idroelettrico questa è la diga del Serru a Cereso Reale qui in Piemonte ci sono diverse tipologie in realtà di impianti idroelettrici abbiamo impianti ad acqua fluente quindi quelli lungo un corso d'acqua centrali al piede di una diga quindi dove c'è un salto artificiale creato appositamente quindi queste sono le grandi centrali idroelettriche sono queste quelle in cui si crea un importante salto e poi abbiamo anche quello che viene chiamato il mini-idro quindi il mini-idroelettrico cioè si possono anche inserire delle turbine linee idroelettriche in corsi d'acqua per creare con piccoli salti con piccoli salti per creare comunque un po' di energia ci sono anche degli esempi ce n'è uno alla loggia uno anche nel a Torino alla Pellerina ci sono degli esempi di piccoli idroelettrici ci poi è anche il mondo dell'idroelettrico a pompaggio che è un diciamo è come un sistema con diga ma è in più anche delle pompe che possono riportare l'acqua a monte questo è molto interessante in ottica di transizione energetica perché il pump ed idro permette di consumare energia per riportare l'acqua a monte ed è interessante per fare i famosi servizi di rete cioè in quei momenti in cui le rinnovabili producono tantissimo e non non sappiamo cosa farne possiamo stoccare l'energia elettrica in eccesso come sotto forma di acqua che viene pompata ad un livello più alto l'idroelettrico viene vi dicevo in Europa è presente da anni questa fascia gialla che non cresce più tanto perché abbiamo sfruttato comunque molto le risorse disponibili ed è comunque una fonte energetica difficile da diciamo installare perché ha comunque dei vincoli paesaggistici e idrogeologici non banali quindi non è che ovunque possiamo andare a fare una diga è una centrale sta crescendo molto però negli ultimi anni in Asia l'Asia ha avuto una crescita molto importante della produzione idroelettrica negli ultimi dieci anni e qua vedete appunto sempre le produzioni idroelettriche nel mondo diciamo che di nuovo l'idroelettrico è una risorsa che a parte forse l'Africa è abbastanza equamente distribuita abbiamo comunque diversi paesi che producono l'idroelettrico sia in Asia sia in Europa sia in America diciamo abbiamo poi l'energia eolica l'energia eolica appunto è la produzione di velocità tramite pale che possono essere ad asse orizzontale e verticale come principale diciamo deviazione diciamo tipologia impiantistica vi dicevo prima l'energia le fonti innovabili sono abbastanza equamente distribuite nel mondo perché vedete che nei punti in cui magari prima non c'era tanta radiazione solare comunque adesso c'è disponibilità di vento al nord Europa le zone rosse sono quelle più interessanti arancioni e rosse dal giallo in su diciamo tutto il nord Europa è interessante per la produzione eolica il centro degli Stati Uniti il Sud America anche in Africa abbiamo delle zone quelle più costiere oppure qualche zona centrale particolare in cui comunque la velocità del vento questo grafico rappresenta la velocità del vento a 80 metri di altezza quindi ci sono comunque diverse zone del mondo in cui è fattibile ed è possibile installare dei sistemi eolici che poi basta ad avere una zona molto piccola per esempio la Spagna ha un'importante presenza di pannelli di sistemi scusate eolici nella zona dell'Andalusia che in questo grafico è un puntino però in realtà ci sono una mappa è molto basta un puntino buono per poi avere installazione diciamo importante di fotovoltaico di eolico le zone blu sono quelle che invece non vanno bene diciamo dove non dovremmo andare a installare un sistema eolico e i paesi principali per la produzione eolica sono la Cina che si vede anche nel grafico seguita dagli Stati Uniti Canada e Sud America e anche l'Europa vedete che c'è la Germania la Francia e la Spagna insieme all'Italia hanno comunque una produzione non trascurabile mentre è ancora poco diffusa in altre parti del mondo anche questa come totale di gigawatt installati è comunque interessante perché vedete che abbiamo 650 gigawatt installati paragonabile con il fotovoltaico come totale installato nel mondo e dopo avervi parlato diciamo dopo avervi detto qualcosa sulle fonti rinnovabili e sulle tipologie e sui possibili usi vorrei dirvi ancora qualcosa sull'idrogeno l'idrogeno non è una fonte energetica questo è importante l'idrogeno è un vettore energetico cioè l'idrogeno non è un'energia non possiamo però è un vettore per produrre energia l'idrogeno è interessante perché appunto è H2 non ha il carbonio quindi non emette CO2 cioè il vantaggio fondamentale legato all'idrogeno è che essendo solo un appunto idrogeno la sua combustione utilizzo in cella combustibile qualsiasi uso vogliate non genera CO2 quindi è un vettore che è decarbonizzato di per sé però il problema dell'idrogeno è che non esiste in natura quasi pochissimo l'idrogeno va prodotto cioè mentre le altre fonti esistono da sole esistono già come risorsa disponibile l'idrogeno è una risorsa che non abbiamo stoccato da qualche parte ma dobbiamo produrla al bisogno e diciamo che l'idrogeno è interessante a livello energetico per due principali motivi uno vi dicevo perché qualsiasi suo utilizzo non genera appunto emissioni secondo perché comunque è appunto anche utile in ottica di incremento delle rinnovabili nei prossimi anni ai fini di stoccare l'energia diciamo l'energia la primaria fonte di stoccaggio se io vi chiedo qual è lo stoccaggio che tutti abbiamo in mente sono le batterie le batterie vanno bene sono sistemi attualmente anche commerciali come costi sono scesi molto sono ottimi per stoccaggio sul breve termine hanno dinamiche molto veloci quindi riusciamo a stoccare e consumare nel giro di secondi sono molto molto veloce però se vogliamo fare stoccaggio invece di lungo periodo le batterie diventano problematiche perché andiamo su taglie davvero davvero molto elevate quindi con footprint importanti e costi importanti l'idrogeno è pensato ed è anche ideato e si studia come stoccaggio energetico perché se noi abbiamo dell'energia in eccesso potremmo usarla per produrre idrogeno quindi l'energia che abbiamo in surplus delle rinnovabili la utilizziamo per fare idrogeno dall'acqua e poi lo stocchiamo e lo utilizziamo al bisogno quindi diciamo è un'alternativa anche allo stoccaggio l'idrogeno si può produrre in diversi modi ad oggi la maggior parte l'idrogeno è di tipo blu come viene chiamato o grigio cioè viene prodotto dal reforming del metano quindi dal metano produciamo idrogeno adesso si fa così l'idrogeno però ovviamente ad oggi l'idrogeno nel mondo quel poco che si fa è fossile perché viene dal metano invece l'idrogeno che noi vorremmo produrre è quello verde che quindi viene da un sistema con un elettrolizzatore che utilizza energia elettrica per rompere la molecola di acqua che H2O in H2O è un mezzo 2 quindi produce idrogeno e ossigeno a partire da una molecola d'acqua per farlo cosa vogliamo utilizzare? vogliamo utilizzare in realtà le fonti rinnovabili perché se no se andiamo a utilizzare elettricità che è fossile non ci piace quindi la nostra idea sarebbe utilizzare fonti rinnovabili per produrre idrogeno solo in quel caso possiamo dire che l'idrogeno è verde solo se è fatto con elettricità green e poi in realtà ci sono anche dei processi delle tecnologie ancora però in fase di diciamo studio che sono dei processi termochimici biochimici per produrre idrogeno a partire da biomassa e quindi la biomassa che viene scissa e in certe fasi di fermentazione della biomassa si produce idrogeno e quindi questo come produzione dell'idrogeno cosa possiamo farne poi dell'idrogeno? beh possiamo utilizzarlo in un motore meglio se in una cella combustibile per produrre energia elettrica possiamo stoccarlo quando abbiamo un surplus di fonti rinnovabili e quando ci serve facciamo energia elettrica in un generatore facciamo energia elettrica oppure possiamo fare utilizzare nei veicoli ad idrogeno ne esistono ancora pochi però ci sono i cosiddetti fuel cell electric vehicles quindi veicoli con cella combustibile elettrici però alimentati a idrogeno quindi il motore è elettrico ma l'elettricità viene prodotta a bordo da una fuel cell è una cella combustibile l'idrogeno e questa è una cosa che è in fase di forte studio in Europa ma anche in Italia può essere diciamo miscelato nella rete del gas e quindi andare al riscaldamento anche diciamo ai veicoli a metano comunque può essere immesso nella rete del metano del gas naturale e quindi abbiamo un gas naturale che per una certa percentuale è decarbonizzato perché ha dentro dell'idrogeno e poi l'ultimo utilizzo dell'idrogeno che però in traiettorie in prospettive future adesso non è ancora commerciale ma è davvero molto diciamo se ne parla molto come traiettoria futura l'utilizzo per fare combustibili sintetici se noi catturiamo la CO2 da processi industriali qualsiasi processi di cattura se poi vogliamo andare a riutilizzare questo atomo di carbonio contenuto nella CO2 dobbiamo mischiarlo con dell'idrogeno per tirarne fuori nuovi combustibili che siano metanolo etanolo metano ci sono tantissimi tipi di combustibili sintetici che possiamo produrre andando a diciamo mischiare in appositi reattori l'idrogeno con la CO2 facendoli reagire riusciamo a produrre di nuovo quindi il carbonio che abbiamo catturato torna ad essere un combustibile questo sull'idrogeno salto questi slide tanto riassumono più o meno quello che vi ho detto finora sull'idrogeno anche in Italia negli ultimi mesi nelle ultime settimane i nostri politici hanno parlato dell'idrogeno c'è una strategia nazionale dell'idrogeno con degli obiettivi di penetrazione dell'idrogeno nella domanda energetica quindi anche in Italia in teoria dovreste vedere ci sono ci sono davvero dei progetti in partenza quindi dovreste vedere i primi autobus idrogeno progetti pilota ovviamente però si sta lavorando anche noi stiamo lavorando su un progetto di produzione di idrogeno per utilizzo in autobus blend nella rete del gas naturale e utilizzo in un campus universitario in Sardegna quindi ci saranno impianti diciamo di questo tipo in futuro li vedrete l'ultimo pezzo diciamo che ci serve per fare una completa transizione energetica è catturare la CO2 è impensabile pensare che di colpo andremo a tutto a fonte rinnovabili anche negli scenari ottimali lo vedremo dopo c'è comunque una quota di fonti fossili che rimane presente quindi le centrali attuali devono la produzione classica elettrica questo qua per esempio è un ciclo turbo gas che produce elettricità a partire da gas naturale questi sistemi continueranno a esistere dovranno essere sempre più efficienti dovranno essere sempre meno però diciamo non è che di colpo scompariranno visto che questi sono sistemi che utilizzano fonte fossile e quindi hanno attualmente delle importanti emissioni di CO2 emissioni di CO2 che continuano a crescere nel mondo da tantissimi anni perché cresce la domanda energetica quindi visto che produciamo quasi tutto con fonte fossile se consumiamo di più emettiamo di più ovviamente con delle pendenze diverse Stati Uniti e Europa ormai hanno delle pendenze piuttosto fisse l'Europa ha avuto anche un leggero decrescita della pendenza ci sono invece i paesi emergenti vedete la Cina che hanno delle importantissime diciamo pendenze molto elevate negli ultimi anni quindi è importante andare a catturare questa CO2 la CO2 si può catturare diciamo principalmente con dei sistemi o pre-combustione quindi togliamo la CO2 se abbiamo per esempio certi combustibili prima di andare nella combustione oppure e sono quelli attualmente i più diffusi post-combustione cioè abbiamo il nostro ciclo turbogas che produce elettricità normale per esempio questa qui la centrale di Moncalieri è un turbogas che produce elettricità dai fumi anziché mandarli al camino come avviene adesso ci sono dei sistemi di post-combustione per catturare la CO2 ci sono tantissime tecnologie in fase di studio sistemi a membrane sistemi di combustione con ossigeno puro sistemi di absorbimento o adsorbimento anche sistemi un po' più particolari di looping con certe molecole per diciamo bloccare l'atomo di carbonio e sistemi criogenici quindi di raffreddamento estremo per separarla tutti questi sistemi utilizzano materiali o processi che selettivamente rimuovono la CO2 e non gli altri composti quanto è facile rimuovere la CO2 dipende da quanta ne abbiamo nei fumi in uscita dall'impianto a seconda del tipo di centrale che abbiamo abbiamo fumi molto diluiti in cui di CO2 ce n'è poca però magari l'impianto è enorme quindi a fine anno l'impatto è molto importante però in percentuale è bassa e lì è un po' più difficile se invece abbiamo impianti in cui la CO2 è già più ricca in percentuale lì è un po' più facile in ogni caso catturare la CO2 ad oggi diciamo non è ci sono impianti pilota nel mondo ci sono degli impianti esistenti non è comunque un processo commercializzato perché? perché aggiunge comunque un costo a un impianto e non ci sono degli incentivi o delle tasse sulle emissioni che giustifichino la sua installazione esiste il sistema di carbon tax esiste anche in Italia le grosse industrie emettitrici di CO2 per esempio i cementifici pagano delle tasse sulla CO2 ma la tassa che c'è in euro a tonnellato in euro al chilogrammo è talmente bassa che ad oggi conviene pagarla piuttosto che installarsi un sistema così che è un sistema ad absorbimento per la cattura della CO2 e quindi questi sistemi esistono sia in scala di laboratorio alcuni altri in scala anche più commerciale ma non hanno mai avuto una vera diffusione sul mercato ad oggi perché non c'è un vero driver finanziario che li spinga la CO2 poi viene catturata e cosa ne facciamo? può essere stoccata di sicuro lo stoccaggio di CO2 è un'opzione che andrà perseguita non potremmo riutilizzarla tutta ma ci sono anche non entro bene nel merito ma tantissimi usi della CO2 sia usi diretti per esempio lo mettiamo nelle serre per migliorare la crescita delle piante o lo mandiamo cresciamo delle alghe attraverso l'utilizzo di CO2 le alghe hanno bisogno di CO2 per crescere o facciamo bevande gasate oppure usi indiretti vi dicevo prima quindi non la uso così com'è ma la miscelo con l'idrogeno e faccio tutti quelli che si chiamano o diciamo combustibili sintetici oppure anche prodotti chimici per l'industria delle vernici dei fertilizzanti delle plastiche se facciamo un attimo un focus veloce sull'Italia in Italia lo share di rinnovabili attualmente per tutta l'energia prodotta complessiva settore elettrico termico e trasporti e al 15% l'ultimo dato del 2019 con una proiezione del 17% al 2020 questi sono dati del GSE li trovate sul loro sito del 18% scusate questo in blu invece sono i nostri obiettivi quindi si andate degli obiettivi diciamo tranquilli e quindi ad oggi siamo al di sopra dell'obiettivo del nostro piano energetico nazionale quindi il 18% complessivamente a livello elettrico siamo al 35% di quota rinnovabile quindi molto alto totalmente in linea con l'europeo il termico più o meno uguale comunque è sopra gli obiettivi siamo sotto gli obiettivi nel trasporto nel trasporto abbiamo il 9% attualmente di share di rinnovabili dovremmo essere al 9.4 siamo poco più in basso però i nostri obiettivi non sono così diciamo assurdi perché siamo più in basso perché in realtà ed è come dicevo non ci sono tanti metodi per fare un green dei trasporti se non fare veicoli elettrici ad oggi quello che si sta cercando di fare ed è diciamo visibile nel nuovo decreto biometano che è uscito da qualche anno è fare biometano quindi del metano green da biogas quindi da biogas da gestione aerobica si fa biometano lo si mette nella rete del metano e si cerca di avere tanti veicoli a metano questo per i veicoli a metano si sta cercando di decarbonizzare il trasporto però solo per i veicoli a metano sul diesel c'è appunto l'opzione biodiesel però siamo ancora un po' sotto diciamo i nostri obiettivi e non ci sono delle chiare strategie sulla decarbonizzazione nel settore dei trasporti almeno a livello italiano come produzione eolica e fotovoltaica più o meno le produzioni sono simili più o meno no perché ci sono 20 megawatt scusate di fotovoltaico installati con picchi in Lombardia Emilia Romagna e Puglia e circa 10 megawatt quindi la metà scusate di eolico quello in verde l'eolico che invece mentre il fotovoltaico possiamo installare in Italia più o meno dove vogliamo anche se con diverse radianze ma comunque tutta la diciamo la penisola va bene per il fotovoltaico per l'eolico abbiamo delle zone preferenziali principalmente su dei isole che infatti sono anche quelle in verde più scuro cioè sono quelle con maggiore installazione e qua si vede bene questa qui la mappa dei venti in Italia per l'eolico e quindi le zone costiere in particolare su dei isole sono quelle più adatte per installare l'eolico abbiamo avuto incentivi per le fonti rinnovabili in Italia sì ne abbiamo avuti diversi dai certificati verdi al conto energia alle tariffe omnicomprensive ultimamente abbiamo dei decreti diciamo più per impianti tipo biogase eolico e fotovoltaico di grossa taglia non c'è molto sulla scala domestica e questo è il motivo per cui la taglia degli impianti fotovoltaici per esempio di casa è scesa molto perché adesso chi si installa un impianto fotovoltaico lo installa diciamo per il proprio autoconsumo però ci sono diciamo ci sono stati ci sono tuttora degli strumenti incentivanti e allora vado veloce verso la fine queste slide erano semplicemente per farvi vedere che in realtà senza qualità di misura però di riserve di fonti fossili diciamo carbone petrolio e gas naturale non guardiamo la biomassa perché vorrebbe dire tagliarle le foreste quindi queste le abbandoniamo però di fonti fossili in realtà ne abbiamo tante ne abbiamo tante e queste sono quelle che sappiamo dove sono ma se guardiamo cosa ci dicono i geologi che sanno che ce ne sono altre anche se non sono state ancora individuate la disponibilità di fonti fossili e queste qui le riserve quelle che conosciamo che abbiamo visto qua sono la quota in verde ma ce n'è un'altra elevatissima quota che ancora non è stata ben identificata ma che è disponibile e quindi diciamo che di fonti fossili ne avremmo ancora per un bel po' di anni in realtà dove sono il petrolio è tutto in Medio Oriente e in Nord America questo vi dia una distribuzione in percentuale ma è è un po' in centro e sud America il gas naturale di nuovo è in Medio Oriente e un po' in Russia e il carbone è in in Asia Nord America aveva un po' più un po' più equamente distribuito in Europa vedete che c'è un po' di carbone ma nel 2019 non tanto quindi ci sono dei paesi che geopoliticamente dominano il mercato delle fonti fossili però vi dicevo la transizione energetica che è proprio questa riduzione di emissioni necessaria nei prossimi 20-30 anni è legata principalmente a un fattore ambientale non tanto ad una scarsità nei prossimi dieci anni delle fonti fossili o meglio in Europa probabilmente sì però se guardiamo su scala mondiale ce ne sono ancora molte però quello che dobbiamo cercare di fare è proprio andare a una riduzione delle emissioni e quello che ci fa vedere questo grafico che è interessante vediamo in arancione c'è cosa succede se non facciamo niente e quindi le emissioni aumentano come sono sempre aumentate fino adesso arriviamo a questo punto qua se facciamo quello che stanno pianificando le nazioni con i sistemi attualmente messi in piedi di politiche energetiche quello che succede è che le emissioni non salgono ne scendono ma non andiamo non raggiungiamo l'obiettivo del meno un grado e mezzo due gradi posto dalla conferenza di Parigi se vogliamo raggiungere quell'obiettivo dobbiamo seguire un altro trend che è molto distante anche da quanto stiamo pianificando adesso che è questo blu che porta a ridurre le emissioni diciamo fino a zero entro il 2050 ci sono diverse tipo questo qua è un trend sviluppato dall'Irena per questa traiettoria energetica in realtà anche l'International Energy Agency ha fatto questi scenari quindi ci sono diversi scenari diciamo disponibili però tutti ci fanno vedere cosa succede se facciamo come adesso se seguiamo le politiche attualmente disponibili e cosa dobbiamo fare per raggiungere gli obiettivi cosa dobbiamo fare l'abbiamo già detto quindi è la somma di quello che abbiamo visto finora usare fonti rinnovabili in modo efficiente elettrificare usare idrogeno e catturare la CO2 quindi questi diciamo sono i punti chiave e concludo diciamo visto che sono andata fuori tempo facendovi vedere qual è lo scenario energetico ad oggi al 2018 quindi abbiamo visto prima petrolio gas naturale carbone e un po' di rinnovabili come sarà invece lo scenario prospettico al 2050 se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi qual è vedete che petrolio natural gas e carbone sono solo più questa fettina a sinistra grigia tutto il resto cos'è è idrogeno biomasse elettricità diciamo da rinnovabili rinnovabili e poi un pochino di nucleare che comunque non scompare ma non c'è un boom quindi questo fa vedere quanto diciamo ci aspettiamo ed è importante che cambi diciamo il settore energetico e questo ovviamente richiede un importante investimenti per far sì che certe tecnologie diciamo raggiungano la maturità commerciale vado verso la fine sui costi non ho approfondito il tema dei costi però ci sono rinnovabili che ad oggi sono diciamo competitive con i costi fossili il range di costo delle fonti fossili è questo in grigio in orizzontale tutti gli altri con tutti i puntini colorati sono le fonti rinnovabili e sono i costi negli ultimi dieci anni vedete che per esempio il fotovoltaico ha un costo di produzione al kilowatt che è sceso tantissimo negli ultimi dieci anni idem per il solare a concentrazione però costa ancora di più per esempio il solare a concentrazione delle fonti fossili mentre il fotovoltaico è diventato diciamo già paragonabile quindi alcune fonti fossili alcune fonti rinnovabili costano ancora di più altre invece hanno raggiunto diciamo la maturità possono essere paragonabili al petrolio al carbone al gas naturale per quanto riguarda la geopolitica quindi quando noi ci muoviamo verso un mercato di fonti rinnovabili cosa succede? che non è più importante chi ha il carbone il petrolio il gas naturale ma diventa importante chi ha quei materiali che ci servono per fare i circuiti elettrici dei paletti fotovoltaici per fare le celle fotovoltaiche per fare le paleoliche per fare le batterie e chi sono questi paesi? beh in realtà i materiali che sono essenziali sono abbastanza questa tabella ne raccoglie alcuni a seconda della diciamo tipologia fotovoltaico eolico o veicoli elettrici e batterie e vediamo che anche le riserve minerarie di questi materiali in realtà non sono davvero equamente distribuite comunque ci sono paesi che detengono grosse miniere per esempio il litio è quasi tutto in Sud America è tutto lì tra Argentina e Cile e alcuni altri materiali per esempio il boro che serve in piccole dosi per i polini fotovoltaici è principalmente disponibile in Turchia quindi in realtà anche qui si creerà una possibile nuova geopolitica che però sarà diversa purtroppo ad oggi l'Europa ha poco come era capitato anche per le fonti fosse abbiamo poco anche di questi materiali ed è questo il motivo per cui la ricerca sta cercando di andare verso altri materiali per cui non si ferma la ricerca ma si cercano nuovi materiali materiali magari meno pregiati materiali più semplici perché l'obiettivo è eguagliare un po' di più questa cartina andando verso nuovi materiali con questo finito anche se sono andata in ritardo io comunque rimango per rispondere alle vostre domande anzi mi scuso per il ritardo e la conclusione diciamo è che come vi ho detto all'inizio gli sforzi necessari per raggiungere gli obiettivi sono importanti ed è importante lavorare sia a livello tecnologico che a livello di policy nazionali ed internazionali ed è importante che tutti questi vettori questi sistemi queste fonti questi vettori che vi ho presentato vengano portati avanti in parallelo perché la soluzione non è mai unica ma è una matrice di tutte queste tecnologie e di questi vettori che porterà ad un eventuale raggiungimento degli obiettivi allora io vi ringrazio intanto qui c'è anche la mia mail in caso aveste poi domande o curiosità adesso esco dallo schermo intero chiedo ai ragazzi di Yes come vogliono gestire le domande adesso apro anche la chat io allora intanto grazie mille e adesso leggo alcune domande che sono in chat ok allora la prima qual è la vita utile del pannello fotovoltaico e come viene smaltito ok allora un pannello allora sullo smaltimento si sa non si sa ancora secondo me abbastanza nel senso che ad oggi i primi pannelli fotovoltaici installati che hanno una vita utile garantita di solito fotovoltaica di 25 anni stanno arrivando adesso a fine vita e diciamo che si sviluppa un'industria del riciclo quando i volumi sono importanti nel senso che come tutte le cose se in tutto il mondo i volumi sono pochi nessuno si mette a fare un path di riciclo comunque l'idea principale come in tutte queste tecnologie fortemente elettriche il recupero dei materiali soprattutto di quelli si dice che poi a questo punto sarà drogato quindi bisognerà vedere come utilizzarlo per nuove celle e se si può diciamo diciamo recuperare ma anche rigenerare perché ovviamente a fine vita le performance sono basse però la vita utile di 25 anni e lo smaltimento attualmente è un rifiuto se dovessi dirti ad oggi però sta nascendo un mercato del recupero dei materiali molto lentamente grazie mille la prossima domanda se non è possibile sapere il nome si può sapere dove è l'unico produttore italiano di pannelli fotovoltaici posso dirvi anche il nome si chiama Tria Energia in realtà è di nuovo hanno una produzione in Italia di pannelli fotovoltaici pannelli piccolini ma ne hanno abbastanza ogni pannello anche degli impianti grossi fa circa 300-400 watt e si chiama Tria Energia ed è vicino a Modena come comunque in Emilia come localizzazione ok perfetto un'altra domanda secondo lei quanto potrà essere presente nell'energy mix del futuro l'idrogeno potrà avere un alto impatto oppure le altre fonti rinnovabili più tradizionali saranno più attraenti allora in realtà non dovremmo paragonare l'idrogeno tipo all'energia solare perché l'idrogeno vi dicevo è un vettore cioè trasporta l'energia da un posto all'altro ma non c'è lo produciamo quando ci serve lo utilizziamo l'idrogeno sebbene ad oggi è difficile immaginare che abbiamo un impatto perché io lavoro la mia principale attività e i costi delle tecnologie sono davvero ancora molto alti i costi elettronizzatori sono importanti produrre idrogeno verde costa 4, 5, 6 volte rispetto all'idrogeno grigio quindi ad oggi è difficile immaginare un boom dell'idrogeno però è davvero importante perché non riusciremo a stoccare tutto con batterie non è pensabile di avere di arrivare agli share previsti di rinnovabili solo con batterie per lo stoccaggio quindi la produzione di idrogeno legata ai squilibri diciamo delle fonti solari fotovoltaico ed eolico è essenziale quindi andrà diciamo a braccetto più aumenteranno quelle fonti più aumenterà il mercato delle batterie ma più sarà anche importante diciamo produrre idrogeno che è anche molto importante appunto in realtà anche per il settore riscaldamento e trasporti per il diciamo il greening della rete del gas naturale grazie al blending quindi in realtà è anche interessante per altre realtà ok grazie mille allora un'altra domanda ma il grande problema dell'idrogeno non è il trasporto ovvero il mantenimento di questo allo stato liquido all'interno di bambole di bombole scusate allora sì il problema dell'idrogeno è quello cioè allora ad oggi possiamo produrlo costa molto caro come dicevo produrlo non abbiamo un'infrastruttura per l'idrogeno non possiamo non siamo sicuri di poterlo immettere in grandi quantità nella rete del metano ci sono degli studi l'hanno fatto in Italia hanno immesso in Puglia fino a Snam fino a 5 un certo percentuale di idrogeno però ad oggi non abbiamo un'infrastruttura quindi sì l'idrogeno si può trasportare diciamo su brevi tratti come pipeline è la cosa migliore sotto forma di gas se poi si vuole liquefare è un'opzione però con dei costi di liquefazione totalmente non banali quindi come si ovvia questo problema allora se parliamo di una generazione distribuita quindi con utilizzi dell'idrogeno nell'intorno della produzione con pipeline gassose quindi se no andiamo sul liquido per lunghi tratti ci sono anche tutti i trasporti via nave con bombolai però sono diciamo secondo me uno step ancora ulteriore legato poi quando produrremo tantissimo idrogeno che dovrà andare tanto lontano allora si può riserare il problema del trasporto liquido che però appunto è una cosa tecnologicamente abbastanza importante anche economicamente ok abbiamo ancora due domande la prossima non sono sicura la pronuncia sarà giusta ma provo ho sentito parlare di un nuovo materiale per l'energia solare la peroschite potrebbe dare qualche informazione a riguardo allora vi dico quello che so non sono un'espertissima di fotovoltaico in peroschite e tra vi facevo vedere in quel grafico tra i fotovoltaici ancora oggi meno efficienti ma emergenti ci sono proprio i fotovoltaici in peroschite la peroschite è un minerale in realtà che contiene calcio e titanio e si può sostituire al silicio nel nel sistema fotovoltaico fotovoltaico e sono in fase di studi hanno ancora rendimenti vedete in quel grafico del 14-15% per la cella quindi sono interessanti perché è un materiale in realtà non troppo pregiato e si possono utilizzare fette molto sottili mentre nel silicio bisogna utilizzarne di più come quantitativi però sono ancora diciamo in stadio diciamo embrionale però comunque un materiale totalmente alternativo al silicio per la produzione fotovoltaica funziona ugualmente in questo modo diciamo ok l'ultima domanda in chat cosa pensa del nucleare ultimamente si sta sempre prendendo più coscienza di quanto sia essenziale nel mix energetico per la transizione energetica questo è un pensiero personale difficile rispondere io non ne sono una fan ma sono anch'io convinta e lo dicono tutti gli studi quindi non è che lo dico io che è comunque una fonte da considerare nella transizione non si prevedono grossi aumenti non si prevede come vi dicevo un boom nessuno studio prevede un incremento forte di nucleare però abbiamo paesi che comunque ad oggi hanno un emission factor quindi una CO2 emessa al kilowattora molto bassa grazie al nucleare quindi sul breve termine in certe località si è costruito in modo corretto e con le tecnologie migliori perché comunque si continua a fare ricerca sul nucleare e si sono impianti anche all'avanguardia è comunque interessante secondo me non deve essere la prima scelta però bisogna tenerlo in considerazione bisogna continuare comunque a studiare e a realizzarlo dove possibile ok è arrivata un'altra domanda pensa che le batterie liquide che si stanno sviluppando potrebbero essere una soluzione fattibile allo stoccaggio dell'energia allora non sono informatissima sulle batterie liquide quindi mi scuso in prima battuta sono in realtà in fase di studio da abbastanza anni ci sono anche dei progetti europei che le hanno le hanno studiate sono da quanto da quel poco che so sono molto dinamiche in quanto a carica e scarica non si hanno tanti dati ad oggi sull'autonomia sulla vita utile quindi non ci sono ancora meno che io sappia installazioni diciamo commerciali però non ho dettagli non sono esperta di questa tecnologia quindi non so dirti rispondo a Valerio molto su questa tecnologia se poi sei curioso scrivimi una mail che cercherò di risponderti comunque è arrivata ancora una che ne pensa allora la prima che ne pensa della cattura diretta di CO2 dell'atmosfera potrà mai essere una tecnologia fattibile dal punto di vista economico sì allora la quella si chiama direct air capture allora nell'atmosfera abbiamo pochissima CO2 quindi ovviamente catturare quella pochissima CO2 dell'atmosfera ha un costo economico energetico abbastanza alto però di nuovo se leggiamo i trend anche dell'International Energy Agency su come raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione c'è sempre anche la direct air capture che deve ancora un po' crescere come maturità tecnologica non è ancora i costi sono ancora molto alti di nuovo è un settore in cui i costi sono molto molto alti ma viene sempre incluso negli studi quindi penso che valga di nuovo valga la pena studiarla ci sono già impianti in realtà che se ne occupano anche in Europa ci sono delle società in Svizzera che hanno impianti installati è comunque sempre considerata perché come vi dicevo probabilmente ogni pezzettino serve per fare un po' non è non è paragonabile agli impianti come quota nel raggiungimento degli obiettivi all'influenza che avrà per esempio la carbon capture molto di meno però comunque è una tecnologia che di sicuro avrà un suo sviluppo domanda su nucleare il mancato sviluppo del nucleare è servito solo per la risultanza della popolazione perché come quantità di rifiuti consumati in serie di CO2 sono paradigolabili all'eolico sì penso che sia una buona fetta di motivazione in Italia il referendum l'hanno fatto dopo Chernobyl la gente ha fatto spegnere tutto però è una riluttanza che a quell'epoca era totalmente giustificata penso nonostante poi non è che tutti gli impianti fossero come quello però ha creato è stata una catastrofe di un'entità tale come poi anche quella che è stata Fukushima però Fukushima è già un esempio di gestione diversa del problema penso che il il pensiero popolare e il fatto che comunque qualcuno deve metterselo vicino a casa c'è sempre la solita sindrome in imbe not in my backyard non nel mio cortile cioè il problema è che tutti diciamo vabbè sì riduce la CO2 difficile trovare cioè ci andrebbe una politica nazionale forte come fanno in Francia se non c'è quella il rischio che poi a causa del malcontento della popolazione non si riesca a fare sì ok allora non ha nominato la tecnologia dei cicli ibridi fuel cell più ciclo tradizionale anche per cattura di CO2 e perché non si sta puntando su questo tipo di tecnologia o perché non è commerciale? ok c'è anche una domanda prima che ho visto sempre sulle cella combustibili quindi se vuoi rispondi insieme di Maria Rita sì non l'ho vista comunque la prima domanda chiedeva se c'è un futuro per le cella combustibile tra le maggiori fonti di energia le cella combustibile sono un sistema per convertire l'energia sono un'alternativa a un motore un motore brucia le cella combustibile no allora il loro grande vantaggio è che non bruciano quindi non hanno i prodotti della combustione non hanno il NOx non hanno il SOx non hanno particolato cioè hanno un elevato impatto ambientale negativo non ci sono davvero emissioni noi abbiamo degli impianti in campo con cella combustibile che non emettono nulla davvero cioè non hanno davvero nessun tipo di emissione e hanno efficienze più alte perché un motore benché vada stazionario va al 30-40% una cella combustibile va al 50-60% quindi produciamo di più costano ancora abbastanza questo è il principale problema su questo posso risponderti in modo abbastanza sicuro è che ci sono pochi dati sull'affidabilità cioè funzionano benissimo in laboratorio funzionano benissimo appena messi in campo secondo me ci va ancora un po' di ricerca sul farle durare però 10 anni come dura un motore o 15 cioè c'è poca c'è ancora un po' di studio da fare sull'affidabilità e la robustezza nel lungo termine però sì cioè io ci credo su più per usi magari stazionari non tanto su veicoli la vedo un po' più difficile su veicoli però per usi invece magari stazionario particolare assolutamente sì e poi invece i cicli ibridi sì diciamo che se vogliamo fare cattura della diciamo le fuel cell sono anche ottime tra le varie cose non che le sponsorizzi però perché essendo che i due l'aria e diciamo il combustibile non vengono a contatto e non bruciano c'è solo un trasferimento di ioni attraverso l'elettrolita come in una pile in una batteria alla uscita non abbiamo i gas combusti mischiati con l'azoto dell'aria e questo permette una molto più facile cattura della CO2 molto molto più facile quindi in realtà in un'ottica di fuel cell con dei costi perché comunque costano ancora anche se molto cari hanno avuto una riduzione importante quella a bassa temperatura ma la temperatura continua a costare abbastanza costi abbastanza importanti sono un ottimo diciamo impianto per poi far cattura sì quello sì hanno degli incredibili vantaggi però non sono ancora commerciali ed è anche perché non si sta puntando cioè le cose sono entrambi vere le celle combustibili a bassa temperatura le PEM hanno qualche materiale un po' di platino qualche materiale un po' più raro le celle combustibili a data temperatura non hanno niente di che sono nickel e bom quindi non hanno problemi di materiali costosi però se ne fanno poche quindi non c'è economia di scala e quindi costano ancora tanto ok questa è una buona strategia per l'utilizzo di microalghe o scarti del settore food per produrre biofuse ok allora sulle microalghe di nuovo ho lavorato poco su questo tema ma le cioè gli scarti del settore food assolutamente sì dobbiamo stare attenti quando parliamo di scarti organici per fare biofuse l'unica competizione che potrebbe esserci è col mancimi alimentari dei pari animali cioè quando noi abbiamo gli scarti ci sono tantissimi scarti nell'industria alimentare o anche del settore food possiamo sempre fare biofuse dagli scarti organici di questa natura se non ci sono competizioni con usi pubblici più nobili quindi di portarli magari appunto a mangimi alimentari sulle microalghe il problema delle alghe in generale è che hanno una bassa densità energetica come per produrre alghe serve davvero molto spazio e sono diciamo ovviamente sono in acqua però questo vuol dire che noi per fare un biofuel dobbiamo disidratarle e questo è un costo energetico abbastanza alto ad oggi ha senso fare alghe se poi le vendiamo come superfood magari per alimentazione vegane o qualcosa in particolare ad oggi fare alghe per fare biofuels non conviene proprio non conviene perché dobbiamo produrle ci serve tanto spazio poi dobbiamo asciugarle diciamo detto un po' brutalmente e quindi non è tanto conveniente ok c'è ancora una domanda quali sono i vantaggi delle batterie litio e vetro rispetto a quelle sole al litio allora di nuovo io sulle batterie non sono esperta quindi ho capito che è un tema che interessa però non ho cioè so che esistono le le batterie in vetro che sono una cosa di cui si parla da un po' di anni come una scoperta una cosa molto innovativa che diciamo e poi è litio al vetro quindi sono elettrodimo particolari non secondo me sono ancora da studiare da quanto ne so cioè di nuovo sono tecnologie come vi dicevo sulle fuel stella per oscite cioè cose che promettono bene in generale sono tecnologie nuove ci sono cose che promettono bene su scala micrometrica in laboratorio e magari vanno molto bene prima di dire che funzionano davvero dobbiamo prenderle metterle in campo cioè arrivare allo step di metterle in campo farle funzionare in diversi siti diciamo in pianti prototipi o pilota per un po' e poi possiamo diciamo giudicarle quindi su quelle se ne è parlato molto ma su me c'è ancora un po' poca esperienza per dare per dare una risposta ok sono lasciate ci sono altre domande e comunque bravissime bravissime perché l'avete fatto di davvero tanto grazie per le domande sì tantissime su tutti i temi possibili qualcuno ha altre domande potete anche parlare se volete potete accendere il microfono forse no allora forse possiamo salutarvi per quanto riguarda i combustibili provenienti da energia solare i solar fues io non me ne occupo direttamente ma ho dei colleghi abbiamo dei banchi in laboratorio che proprio producono quelli che vengono sono chiamati solar fues questi sono allora dipende quando diciamo combustibili di energia solare in realtà intendiamo tantissime cose nel senso che quell'energia solare può essere convogliata su un processo che è biochimico come la fotosintesi artificiale può essere anche termochimico come tutti i processi di di chemical looping o simili che quindi catalizzano tramite l'energia solare una certa reazione quindi usiamo l'energia solare del calore ad alta temperatura per un processo di produzione di combustibili di solito sintetici a partire da o biomassa o CO2 di scarto sono sistemi molto promettenti sono sistemi che sulla livello io adesso non sono esperta a livello tecnico dei dettagli del processo ma per quanto riguarda la diciamo le aspettative i dati di laboratorio sono sistemi molto cioè molto promettenti perché utilizzano davvero solo energia solare ad oggi sono processi che in laboratorio richiedono un elevato controllo per esempio i processi termochimici sono processi molto delicati quindi funzionano funzionano molto bene ma vanno sono ad oggi ancora un po' diciamo funzionano molto bene in laboratorio però c'è davvero tantissima ricerca su quelle cose anche sulla fotosintesi artificiale ci sono ne abbiamo a Torino l'IT l'Istituto Italiano di Tecnologia che all'Environment Park ha un laboratorio di produzione di biofuels tramite via biochimica con fotosintesi e so che appunto ricevono tantissimo interesse anche a livello aziendale viene studiato ancora diciamo a livello laboratorio quindi siamo ancora in fase R&D e non siamo ancora a livello di mercato però sono efficienti hanno sì diciamo performance molto interessanti abbiamo un ultimo grande dubbio si parla tanto di impianti di idrogeno sull'automobili cosa ne pensa sono efficienti il problema di mettere un idrogeno sull'auto che devi mettere l'idrogeno cioè che devi mettere l'idrogeno che devi comprimerlo perché l'idrogeno ha un elevatissima ha un elevatissimo potere calorifico su chilo ma ha un bassissimo potere calorifico su metro cubo l'idrogeno è poco denso quindi per mettere l'energia sufficiente per avere un'autonomia paragonabile con le altre auto a idrogeno devi fare un serbatoio che se non vuoi che sia sgrossa come tutta l'auto devi pressurizzarlo tanto e questo vuol dire comunque incrementare l'ingegneria dell'automobile sull'auto auto non ci credo tanto sinceramente l'idrogeno è molto più interessante su quelle che vengono chiamate captive fleet su delle flotte con tratti diciamo noti gli autobus per esempio i camioncini dell'immondizia cioè su sistemi che abbiano che sono più facilmente gestibili quindi puoi garantire un po' di meno un po' meno autonomia perché si riesce a diciamo a gestire meglio il tipo di funzionamento quindi più su sistemi di quel tipo lì magari controllati non sulle auto di tutti i giorni lì probabilmente l'elettrico sarà predominante secondo lei i cambiamenti climatici proteranno influenzare l'utilizzo di determinati tipi di energia rinnovabile difficile da dire cioè nel senso dipende in che senso è intesa questa domanda di sicuro in modo generale il fatto che tutti prima o poi si accorgeranno che ci sono dei cambiamenti climatici porterà a utilizzare le energie rinnovabili in generale se alcuni cambiamenti possano influenzare in negativo in positivo certe energie sarebbe da ragionarci c'è una domanda molto interessante secondo me per esempio non lo so però si sciolgono i ghiacciai cambiano i bacini cambia qualcosa sull'idroelettrico dico cioè così quindi non lo so sarebbe da ragionare cioè nel senso se magari qualche innalzamento di temperatura magari fa cambiare quelle mappe di solare che abbiamo visto o certi fenomeni fanno cambiare quelle mappe se i cambiamenti portassero mai ad una diversificazione ad un cambiamento delle risorse rinnovabili di sicuro ci sono magari zone che potrebbero sfruttarle altre non più quello è è possibile ma è interessante ma non so la risposta precisa però è un tema che secondo me sarebbe comunque da da analizzare ok sembra non ci siano altre domande qualcuno ha altre domande ok forse le abbiamo seurite tutte sono tutti affamati è l'ora sì comunque direi che dopo tutte queste bellissime domande anzi grazie professoressa Gandiglio per aver risposto comunque esaustivamente anche in quello che non le competeva visto che sono le nove meno dieci siamo rimasti in trentadue forse possiamo anche chiudere almeno che non ci siano delle ultime domande gli ultimi grandi dubbi grazie a voi forse le domande sono esaurite poi se le avrete scrivete sui social dove preferite vi verrà risposto comunque perfetto allora grazie mille a tutti grazie mille a professoressa Gandiglio grazie mille grazie a voi per avermi invitata e allora direi che ci salutiamo buona serata a tutti arrivederci a tutti grazie mille a tutti arrivederci arrivederci Grazie a tutti